Musica Salve, oggi andiamo a Cerci Maggiore, saremo in compagnia della signora Assunta e del marito, delle loro amiche e vedremo il costume tradizionale di Cerci Maggiore, quello della sposa e anche quello di tutti i giorni. Ascolteremo qualche proverbio con la speranza che sia tutto di vostro gradimento. Un caro saluto, vostro Angelo. Questo costume che tiene questa signora è quello da sposa, il completo. L'unica cosa che manca sono i gioielli, a cannacre come si chiamava, era fatto tutto con dei cosi rotondi in oro, per esempio come gli orecchini. Questo è, come si chiama questo qua? Ah, questo è oricch. Questo invece è Ascol, questo è il grembiule, è al matrimonio, col matrimonio, sì. Questo invece è la mandarelle che viene chiamata, che non è che si portava tutti i giorni, sono giorni di festa. Col matrimonio invece portavano il grembiule di velo e questi sono i vari ornamenti che si portavano sempre col matrimonio, solo col matrimonio. Questo è un vallone che viene chiamato, tutto in oro. Questi invece sono i manichini, tutto ornati in oro e tutti gli ornamenti che si usavano a quell'epoca. Che cosa vuoi? Ah, poi, girate dietro, ecco. Questo invece è tutto il riccio, come era proprio il costume anticamente. Questa però ha una differenza di fronte al costume che portavano le giovani. Le giovani erano tutte piegoline, piegoline, tutte uguali, tutte intorno. Invece la sposata portava con questo pezzo di piegoline più piccolini che si distingueva dalla giovane alla sposata. Questi poi erano pure ornamenti, i puntali o li di qua. Le sposate ne portavano due, invece la giovane la portava solo in mezzo qua. La scolla era tutta ricamata e si metteva soprattutto, e questo invece è Amap, come chiamano, però di solito è Amap Adelan, ecco. E che la portavano sempre nei giorni di festa, non sempre. Soprattutto con il matrimonio, sempre con questo ornamento di vallone che chiamavano in oro. Questo è originale proprio, questa qua. Questo poi sarebbe lo spillone, ecco. E questo sarebbe la sposa. Invece questo sarebbe ammardato, a giovane. No. Costume giornaliere. Ecco, costume giornaliere. E poi, ancora un'altra cosa con la sposa. La sposa portava tutto questo ornamento sotto al vestito, con questa fascia rossa. Tutti i femmini la portano sotto. Chi ha dei sani e chi ha dei rotti, chi ha dei young e chi ha dei sani e chi ha dei sani e chi ha dei sani e chi ha dei sani. Di giorno era piccola, era piccolina questa fascia. Ah, Abdi si chiama questa qua. Questa fascia qua si chiama Abdi. Comunque, come questa, quest'altra donna, che era piccolina. Poi, la donna vedova la portava di nero, poi questa qui, non la portava più rossa. E questo è il costume semplice di tutti i giorni, con la camicetta bianca, con un grembiule normale, insomma, è sempre così, con tutto questo apparato. Poi ci stavano, sempre gli orecchini, sempre orecchini antichi. E poi ci stavano anche di un'altra specie, rotondi, che non si trovano più. Io non ne ho visti più, non so perché sono passati molti anni. E portavano anche una collana d'oro, che neanche adesso si trova più di queste collane. Eh, si portavano... e quindi questo sarebbe il vestito semplice che portavano tutti i giorni. Questo, questo invece sarebbe quello degli uomini. portavano proprio questo... questo... bottoni, tutti dorati. Questo era proprio sia per il costume della donna che dell'uomo. Comunque era molto bello anche il costume dell'uomo. Molto bello era. Aveva un taglio. Qua c'è, ce lo tiene una persona, ne tiene due. Allora, si riferiva alla ragazza che non teneva petto. E dicevo, la femmina senza petto è come un scudolare senza petto, quindi come una cosa vuota. Eh, sì. Piano merlo che la via è petrosa. Piano merlo che la via è petrosa. Il sacco vacante non si regge in l'air. Sarebbe che il sacco vuoto non si regge in piedi, ci deve stare sempre qualche cosa dentro. Che papà! L'acqua scorre e il sangue stragna. L'acqua di aprile, ma c'è una carta d'ora che si chiude. Chi vuole va e chi non vuole manda. Vuol dire che chi vuole una cosa va direttamente. Chi non la vuole manda un'altra persona. Febbraio, curto, curto. O meglio, ho un paio di tutto. Febbraio, curto, curto. O meglio, ho un paio di tutto. Se i giorni a me fossero tutti, facessi l'ho in e dentro di tutto. Se febbraio, è il mese più freddo. E il porto 28, 29, portassi dentro quello, facessi l'ho in e dentro di tutto. E il porto 28, 29, portassi dentro quello, facessi l'ho in e dentro di tutto. E il porto 28, 29, portassi dentro quello, facessi l'ho in e dentro di tutto. E il porto 28, 29, portassi dentro quello, facessi l'ho in e dentro di tutto. E il porto 28, 29, portassi dentro quello, facessi l'ho in e dentro di tutto. E il porto 28, 29, portassi dentro quello, facessi l'ho in e dentro di tutto.